Ben trovati all'ascolto e alla visione di questa trasmissione speciale post-elezione 2019 in Umbria dal centro video di Palazzo Cesaroni. Ospiti quest'oggi due professori universitari, alla mia a sinistra il professor Bruno Bracalente che ha appena presentato proprio in questa sede una prima analisi sui flussi elettorali e quindi parleremo con il professor Bracalente di questo e di altro e alla mia destra, esattamente come la notte del 27 ottobre in cui c'è stata una lunga diretta elettorale, il professor Marco Damiani al quale naturalmente rivolgerò delle domande per analizzare la situazione politica che si è venuta a creare. Faremo anche un po' di storia di come si è arrivati in Umbria ad un importante cambio di guida politica da quando esiste la regione e questa è la prima circostanza in cui è una coalizione di centrodestra che amministrerà per i prossimi anni l'ente più importante della regione Umbria. Prima di entrare nel vivo un piccolo riepilogo di quanto accaduto a urne chiuse per vedere un po' i numeri di cui parleremo e poi appunto le nostre discussioni. La regia può mandare subito la scheda che ci mostra chi e come ha vinto le elezioni in Umbria. Queste sono le dimensioni della prima vittoria della coalizione di centrodestra in Umbria, maturate con il voto del 27 ottobre scorso. Alla coalizione vincente, guidata da Donatella Tesei, sono andati il 57,55% dei voti espressi dagli elettori Umbri, 20 punti percentuali in più della coalizione guidata da Vincenzo Bianconi che ha ottenuto il 37,48% dei voti. Gli altri sei candidati presidente, tutti insieme, non raggiungono il 5% dei voti espressi. Nel dettaglio, la Lega ha ottenuto quasi il 37% con i suoi 154.413 voti. Per la prima volta Fratelli d'Italia entra in doppia cifra ottenendo il 10,4% grazie a 43.443 voti che valgono il raddoppio della rappresentanza in aula due consiglieri regionali. Il terzo partito di questa nuova maggioranza in regione è Forza Italia che ottiene il 5,5%, circa la metà dei Fratelli d'Italia e un solo consigliere. Ma un consigliere lo elegge anche la lista della presidente Tesei che ha superato i 16.000 voti sfiorando il 4%. Il seggio non scatta invece per l'altra lista civica a sostegno della presidente Tesei che ha totalizzato il 2%. Nella coalizione che ha sostenuto Vincenzo Bianconi il risultato migliore è stato quello del Partito Democratico con oltre 93.000 voti che valgono il 23,33% del totale, mentre il Movimento 5 Stelle, per la prima volta alleato del PD, ha visto ridursi la propria rappresentanza alla medesima percentuale che ha ottenuto nelle elezioni per il Comune di Perugia, rivinte da Andrea Romizzi. I pentastellati hanno il 7,4% che vale un solo consigliere regionale anziché 2 come nella precedente legislatura. Un seggio lo ottiene anche la lista civica di sostegno al presidente Bianconi con il 4% dei voti, mentre restano fuori dalla rappresentanza in aula le due liste verdi, nonostante gli oltre 12.000 voti ricevuti dagli elettori umbri. Importante è stata anche la partecipazione al voto degli elettori umbri che, dopo aver toccato il punto più basso nella precedente consultazione regionale del 2015, quando votarono poco più della metà degli elettori, il 55,4%, è risalita, come si può vedere dalla linea di colore arancione, al 65%, vicina al 67% delle europee di qualche mese fa, a dimostrazione di un voto fortemente politico e orientato sui partiti, anche se resta inarrivabile la partecipazione al voto per le politiche che, seppure in calo rispetto alle precedenti, si attestava lo scorso anno al 78,23%. Ecco, questa era la breve scheda che abbiamo preparato per ricordare appunto come sono andate le cose. Dicevo che il professor Bracalente ha presentato proprio alcuni giorni fa la prima analisi sui flussi elettorali che si sono verificati in questa tornata nel 2019. Professore, la cosa che più mi ha colpito ascoltandola è il dato di questi 100.000 elettori in più che sono tornati a votare rispetto all'astenzionismo delle elezioni precedenti e che, mi pare di aver capito, hanno votato Lega Fratelli d'Italia sostanzialmente. Sì, hanno votato il centro-destra, in particolare la Lega, la metà ha votato Lega, dei 100.000 in più che sono tornati a votare, che non avevano votato alle elezioni regionali del 2015 quando la partecipazione al voto era stata particolarmente bassa, 55%, e questa volta invece è aumentata di 10 punti la partecipazione al voto. Chi ne ha beneficiato è sicuramente il centro-destra per due terzi sostanzialmente, la metà, la Lega, un'altra parte, Fratelli d'Italia e anche altre liste di centro-destra, comprese le liste civiche, perché poi in questa circostanza e anche nell'altra per la verità hanno giocato un ruolo importante anche le liste civiche di centro-destra in particolare. Però la cosa interessante è capire chi erano questi 100.000 che sono tornati a votare, cioè chi erano dal punto di vista dell'appartenenza politica o comunque delle scelte di voto precedenti. E questo lo possiamo vedere, perché nel 2015 c'erano stati poco più di 100.000, circa 110.000 persone che non avevano votato a che invece avevano votato alle elezioni precedenti, alle europee del 2014. Allora di questi sappiamo chi era, con i flussi appunto, con le stime dei flussi possiamo sapere chi erano questi 110.000 che non votarono allora ed erano per due terzi di centro-sinistra, 50.000 erano del PD. Quindi venivano dal centro-sinistra due terzi di cui 50.000 circa del PD, sono tornati a votare, si sono messi in stand-by in quell'occasione, non hanno votato, sono tornati a votare questa volta e per due terzi hanno votato per il centro-destra e 50.000 per la Lega. Quindi qui c'è stata una redistribuzione del consenso molto rilevante tra centro-sinistra e centro-destra a danno del primo e a vantaggio del secondo schieramento, che non è che sia avvenuto improvvisamente il 26 ottobre, quando si è votato l'ultima volta. Questi passaggi erano già in parte avvenuti durante le elezioni precedenti, perché cinque mesi prima c'erano state le politiche e la Lega aveva avuto lo stesso risultato importante e il centro-destra e prima ancora c'erano state le elezioni politiche del 2018, dove pure avevano avuto un risultato importante un po' meno la Lega e il centro-destra. Quindi adesso noi vediamo il consolidato che è successo in questi cinque anni e vediamo questo passaggio, però l'elettorato si è mosso anche progressivamente ogni volta che ha avuto occasione di votare ed è passato progressivamente dal centro-sinistra al centro-destra. Un'altra cosa che le volevo chiedere, lei ha parlato di un elettorato molto mobile, con dei flussi appunto che si sono sviluppati in tutte le direzioni. Vado a dire che la Lega ha introitato molto, ma ci sono dei flussi anche in uscita, non so, verso altri partiti? Questo si vede soprattutto se facciamo il confronto con cinque mesi fa, e cioè con le elezioni europee del maggio scorso. Qui si vede appunto che ci sono flussi abbastanza intensi, sia all'interno del centro-sinistra in parte, del centro-destra, tra partiti, anche tra schieramenti diversi, che io penso sia legato, perché poi in realtà da maggio alle regionali di ottobre non è che poi i rapporti di forza tra i schieramenti siano cambiati tanto. Sì, è cambiato qualcosa, per esempio i Cinque Stelle hanno dimezzato il loro consenso, è cambiato qualcosa di rilevante, quindi da questo punto di vista un calo molto forte ce l'ha avuto anche Forza Italia. Però nel complesso, nei schieramenti, non è che poi ci sia stata una grande rivoluzione, perché non è che c'è questo crollo improvviso appunto, è avvenuto progressivamente, già nel maggio scorso i rapporti di forza erano quelli, il centro-destra era avanti rispetto al centro-sinistra di 20 punti, quindi già allora non è che sia un'invenzione delle ultime elezioni questo rapporto di forza a vantaggio del centro-destra. Però appunto ci sono stati dei flussi che sono credo legati anche molto al voto di preferenza, alla battaglia che c'è stata anche per entrare in Consiglio regionale da parte di candidati, che hanno probabilmente acquisito voti a danno di altri partiti, anche traschieramenti, per esempio la lista civica del neopresidente Tesei ha sicuramente avuto un grande successo, soprattutto in alcuni territori, in particolare nel Folignate, Spolettino, Valnerina, ma anche da altre parti, e in quei luoghi dove ha avuto un grande successo, spesso fino a vicino al 20%, chi ha pagato il conto è la Lega, perché erano voti che magari in precedenza, cinque mesi prima, le elezioni europee, quando non c'erano liste civiche, erano voti della Lega. Quindi ci sono stati flussi importanti anche da questo punto di vista e ci sono flussi anche che si cominciano a vedere abbastanza rilevanti tra la Lega e Fratelli d'Italia. Questo è un altro flusso che comincia a emergere con una certa chiarezza. Adesso non è che possiamo dire da questo i primi segni che vediamo che c'è una tendenza a di nuovo un altro passaggio. Noi in passato abbiamo visto dei flussi che venivano da tutte le parti, arrivavano al Movimento 5 Stelle e poi alla prima occasione successiva dal 5 Stelle andavano alla Lega. Era il ruolo di traghettatore che svolgeva il Movimento 5 Stelle nei confronti di un malcontento che veniva da tutte le parti, in particolare dal centro-sinistra e che arrivava al Movimento 5 Stelle ma non si fermava lì. Poi era un'occasione successiva, adesso si è visto, il Movimento 5 Stelle è andato molto male perché ha perso nelle europee scorse, ha perso la metà dei propri voti rispetto alle politiche precedenti. Nelle regionali di oggi ha perso di nuovo la metà dei voti rispetto alle europee di cinque mesi fa e quindi quel malcontento che aveva avuto come approdo provvisorio il Movimento 5 Stelle poi ha preso la direzione della Lega sostanzialmente. Si comincia a vedere qualcosa, non è detto che poi si consolidi, ma insomma qualcosa che ci possa essere anche un passo ulteriore dalla Lega a Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è un partito che ha raggiunto la doppia cifra percentuale come abbiamo visto, superando il 10%. Con il professor Damiani vorrei analizzare un altro aspetto, o meglio un altro fattore che può avere inciso e vorrei sapere da lei quanto più o meno. La crisi chiamata giornalisticamente Sanitopoli ha sicuramente inciso sull'elettorato di centrosinistra. Quanto però ha effettivamente inciso su questa sconfitta della coalizione di centrosinistra o se ha inciso in che maniera? Quantificare il peso delle inchieste Sanitopoli sul voto elettorale delle scorse regionali è realisticamente impossibile da fare. Come osservazione politica mi sento di dire però che quelle inchieste hanno sicuramente avuto un esito politico-elettorale immediato, poi sta ovviamente ai processi portare a termine tutte le considerazioni necessarie dal punto di vista giudiziario, però gli effetti politici sicuramente si sono sentiti. Rispetto a quello che diceva il professor Bagalenti, che mi sembra di condividere appieno, vorrei soltanto aggiungere una considerazione in più. Nel 1977, mi permetto di fare una brevissima citazione, Gianfranco Pasquino e Arturo Parisi scrivevano un articolo piuttosto interessante sulla categorizzazione dei voti, definendoli come voto di appartenenza e voto di opinione. Quel mondo è un mondo che è andato terminando. Il voto di appartenenza che ha caratterizzato la regione dell'Umbria, che ha caratterizzato le regioni rosse del centro Italia e che veniva espresso sulla base di un'appartenenza dei cittadini a un progetto politico collettivo, è venuto meno con la crisi dei partiti, è venuto meno con la crisi delle ideologie novecentesche e oggi il voto è un voto molto più liquido, che si sposta facilmente. Gli studi del professor Bagalenti all'Università di Perugia lo dimostrano ad ogni tornata elettorale come ci sia un movimento di elettori che sicuramente oggi è molto più frequente rispetto a quanto poteva rivelarsi qualche anno fa, dove invece i blocchi storici e i blocchi sociali del centro-sinistra erano molto fermi o abbastanza fermi e c'erano spostamenti di voti molto più contenuti. Oggi si sono rotti gli argini e tranquillamente un elettore, come appena detto il professore, può passare da uno schienamento di centro-sinistra, traghettare sul PD e poi arrivare ad un partito che ha un orientamento politico molto diverso rispetto a quello di partenza. Storicamente ci sono successe anche parecchie cose, cioè siamo passati da un'epoca in cui la sinistra aveva tanti riferimenti territoriali, cioè aveva le feste dell'unità, aveva questi circoli del PD, ex partito comunista. Oggi mi sembra che a parte la Leopolda, che è una cosa molto più circoscritta e riguarda appunto il partito di Renzi, sia un po' venuto meno anche tutto quello che c'era. Lei parla in un articolo interessante che ho letto su un sito che si chiama federalismi.it, di una subcultura, è una rivista, l'ho letto su internet, quindi non ho una percezione cartacea, che c'era una subcultura fino a qualche tempo fa che era fortemente radicata, che si univa poi alle esperienze vive delle persone quotidiane, quindi aggregazioni, punti di ritrovo, socialità, che forse è andata smarrita negli ultimi anni. Questo della subcultura è un tema molto importante, molto dibattuto in letteratura, lo dico con una battuta. Una subcultura è stata definita da diversi autori, diciamo il principale è Trigilia, che definiva la subcultura come un sistema di potere, in cui c'era un partito egemonico al centro e una rete di collegamenti all'interno della società, con una pluralità di attori della società civile, che in qualche modo venivano controllati dal partito, comunque erano soggetti di aria politica a fine al partito egemone. Diciamo che queste relazioni tra politica e società civile sono venute meno, il partito non svolge più, come diceva lei giustamente un attimo fa, il ruolo che ha svolto in passato, nel senso che la forma del partito di massa che abbiamo conosciuto nel Novecento è venuta meno. Oggi i partiti sono definiti con una pluralità di aggettivi, partiti personali, partiti azienda, partiti in franchising, partiti cartello e così via, ma sicuramente al di là della definizione la sostanza sta nel fatto che il partito ha smesso di svolgere il ruolo di socializzazione politica che svolgeva in passato ed è diventato un attore politico molto più fluido, molto più leggero, che svolge anche funzioni diverse rispetto a quelle che svolgeva in passato e che quindi ha una presa relativamente più bassa rispetto a qualche anno fa. I partiti invece in controtendenza che continuano a mantenere una forma partito relativamente strutturata secondo le indicazioni che provengono storicamente da quella forma del partito di massa a cui prima facevo riferimento, invece sono partiti che dopo un ventennio continuano a mostrare un radicamento politico. Faccio riferimento alla Lega. La Lega è un partito vero, è un partito che ha saputo rinnovarsi, è un partito che sa mettere insieme il radicamento territoriale con l'utilizzo per esempio dei mezzi di comunicazione di massa, la famosa bestia della Lega, cioè quel sistema di mass media, di social media utilizzato e messo in piedi magistralmente da Morisi, che è un dirigente importante della Lega vicino a Salvini, dà la possibilità di giocare su due fronti, giocare sul radicamento territoriale e giocare poi sulla rappresentanza, sull'esposizione politica attraverso mezzi di comunicazione diversi rispetto a quelli tradizionali. In seno alla Regione Umbria, professore, la Lega è passata da un consigliere con la percentuale del 4% al 14% del 2015, che vale due consiglieri, e con l'attuale 37% ha preso tutto, perché c'è il premio di maggioranza della legge elettorale che gli dà il 62% dell'aula. Quindi questo è non un successo, ma una vera occupazione di Palazzo Donini e di Palazzo Cesaroni. Ma la Lega ha sostituito il Partito Democratico, si è sostituita nel sentimento popolare a quello che era un po' il centro-sinistra, che raccoglieva un po' le fila dell'elettorato, che aveva i suoi centri, che aveva le sue comunicazioni. La Lega è un partito relativamente nuovo, che però sembra essere in questo momento il più strutturato. E poi vorrei chiederle anche, ci sono delle discrepanze notevoli tra i centri più grandi, non so, Perugia per esempio, e i centri piccoli. Nei piccoli la Lega fa cappotto, prende la Tesea e ha ottenuto il 70% e anche oltre. In città, per esempio, a Perugia, non c'è questa egemonia del Partito di Salvini. Allora, intanto ha occupato il Palazzo, ha preso i voti, ha preso i seggi che gli spettano, secondo una legge che è stata fatta, peraltro, a parola, ma in particolare dal centro-sinistra, quindi è tutto assolutamente normale. Peraltro si sono semplicemente rovesciati i rapporti di forza. In passato era al contrario, nel senso che c'aveva il 60% il centro-sinistra e adesso c'è il 60% il centro-destra, in particolare la Lega. Se guardiamo sempre ai flussi elettorali, penso che a questo punto, facendo un po' di calcoli, ma, d'altra parte, non è strano. Credo che la maggioranza, anzi, direi tra il 50% e il 60% dell'elettorato della Lega, 5 anni fa votava a sinistra. 5-6 anni fa, diciamo, all'Europel del 2014, 5 anni fa. E quindi molti elettori, sì, della Lega, hanno in passato votato per il centro-sinistra. Perché è avvenuto questo? Poi dopo vediamo anche la differenza tra città e campagna o piccoli centri, che poi le cose sono abbastanza collegate. Prima si diceva la subcultura politica, i fattori che facevano un po' da collante, diceva lei anche le feste dell'unità, il ruolo delle associazioni collaterali al centro-sinistro, appunto, faceva parte di quella humus, dove il partito egemone esercitava il suo ruolo di governo e di potere, evidentemente, e quindi il consenso di conseguenza in queste realtà era molto più alto della norma della media italiana. C'era un altro fattore però importante, che era il ruolo delle istituzioni regionali e locali per costruire questo consenso aggiuntivo, che era un ruolo non necessariamente clientelare, io intendo proprio un ruolo invece positivo, un ruolo di sostegno allo sviluppo, per esempio, e per il welfare, per garantire i servizi sociali alla popolazione, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. Questo negli ultimi anni in Umbria è venuto meno quasi radicalmente, per cui adesso questo crollo che c'è stato dipende anche dal fatto che progressivamente si sono perse non solo questi vecchi elementi ideologici, e anche di collateralismi che erano legati al vecchio consenso che c'aveva la sinistra in questi territori, ma è venuto meno anche il ruolo delle istituzioni locali per lo sviluppo, e poi devo dire che è venuto meno lo sviluppo, nel senso che l'Umbria, e quindi questo collegamento, lo sviluppo è venuto meno, le difficoltà sono cresciute, e le istituzioni hanno fatto abbastanza? Io credo che gli elettori si siano chiesti anche questo, e le istituzioni sono passate progressivamente al centro-destra, ormai c'è rimasto poco o nulla di amministrazioni locali di centro-sinistra in Umbria. Città, piccoli centri. Anche questo è una dinamica tra l'altro di livello internazionale, perché anche qui dobbiamo introdurre anche un altro elemento. Noi abbiamo visto il voto Umbro, il voto Umbro ha avuto anche un riflesso nazionale molto evidente, è stata l'arena nazionale, come si dice, ha giocato un ruolo particolarmente rilevante, perché è stato un test per il nuovo governo, per la nuova maggioranza tra 5 Stelle e il Partito Democratico. Però tutto questo avviene anche in un periodo storico in cui da diverso tempo, soprattutto negli ultimi due decenni, i partiti di sinistra, di centro-sinistra, i partiti social-democratici, europei, non soltanto in Italia, e poi anche dall'altra parte dell'Atlantico, negli Stati Uniti, sono partiti che sono in difficoltà. Perché sono in difficoltà? Perché gli elettori che in passato si riconoscevano in questi partiti, le categorie sociali, i lavoratori dipendenti, i lavoratori dell'industria, che in passato si riconoscevano in questi partiti non ci si riconoscono più, non si sentono più protetti, un po' perché è cambiato il mondo, perché il mondo è diventato dei servizi invece che dell'industria, perché il welfare è in crisi, la spesa pubblica è una leva che si usa solo ormai la componente pubblica per mettere le tasse piuttosto che per poter dare servizi, è evidente che quella parte di popolazione non si è sentita più rappresentata e si sente più rappresentata stranamente, o forse no, da partiti invece di destra che garantiscono altri bisogni che queste popolazioni manifestano, bisogni di sicurezza, veri o indotti, in parte veri, in parte indotti e legati al fenomeno epocale anche questo della immigrazione, eccetera. Tutto questo si sente di più nelle aree marginali e allora nei piccoli centri, e questo in tutto il mondo, nei piccoli centri si vota di più per la destra, per la Lega e nelle città invece dove la popolazione urbana ha altre caratteristiche, dove si è sviluppata quell'economia dei servizi e l'elettorato invece cerca altri diritti, altre tutele da parte della politica, da parte dei partiti e votano di più per i partiti di centro-sinistra. Oltre alle forze in campo maggiori, diciamo così come entità, mi pare che possa emergere un non successo delle liste civiche in generale, professor Damiani, e una certa irrilevanza della sinistra-sinistra, quella a sinistra del PD. Questo è un altro aspetto, non tanto quello della sinistra, ma le liste civiche forse si poteva presumere che andassero meglio, invece i partiti hanno vinto. Alcune liste civiche sono andate bene, rispetto a quello che diceva prima il professor Bragalente, la lista civica del Presidente e altre di centro-destra hanno preso voti, addirittura la lista civica sia di Tesei sia di Bianconi ha riportato a casa un seggio, un consigliere. Per quanto riguarda invece i partiti della sinistra-sinistra, anche a livello regionale come a livello nazionale in Italia si continua a registrare una difficoltà rilevante di organizzazione politica elettorale e capacità, diciamo così, di rastrellamento dei voti. I partiti della sinistra-sinistra oggi in Umbria non hanno rappresentanti in Consiglio regionale, ma non li avevano neanche nel Consiglio regionale scorso, se non forse per un seggio che era di articolo 1 e che in qualche modo il quadro regionale riflette il quadro di difficoltà politica nazionale. Rispetto invece al Partito Democratico, se posso permettermi quello che diceva prima il professor Bragalente, nei giorni scorsi mi è capitato di scrivere alcuni articoli di commento sul voto e provavo a utilizzare un'espressione già utilizzata in altri contesti, però riportandola al contesto regionale Umbro del Partito Democratico come partito AZTL, cioè quel partito che prende voti prevalentemente nei centri storici abitati dalla borghesia intellettuale e che prende progressivamente sempre meno voti nelle periferie. Per fare un esempio che ci è particolarmente vicino, prima il serbatoio elettorale del PC, PDS e DS a Perugia erano i ponti, oggi i ponti votano prevalentemente da un'altra parte. Questo significa che il Partito Democratico ha perso un pezzo del suo popolo, i partiti del centro-sinistra hanno perso un pezzo del suo popolo che sono andati da altra parte. La ragione in parte veniva anche ben evidenziata dal professor Bagalente, la questione della sicurezza è una questione ricorrente, però vorrei aggiungere semplicemente una battuta. La sicurezza è un elemento chiave nella domanda anche politica dei cittadini, diventa un elemento preponderante nel momento in cui una parte importante della popolazione si trova a dover vivere condizioni di disagio o di particolari difficoltà improvvisa, dove quindi riemerge forte una domanda di sicurezza determinata da un'insicurezza sociale percepita importante. Su questo i partiti del centro-destra, in particolare la Lega e in maniera sempre più evidente anche Fratelli d'Italia, riescono a organizzare risposte immediate ed efficaci molto meglio di quanto riescono a fare i partiti di sinistra e soprattutto, vista la crisi e la domanda che lei mi faceva, i partiti della sinistra a sinistra. Professor Bagalente, su Terni la Lega ha avuto un 40%, cioè una percentuale enorme, a Perugia molto meno. Allora non è solo una questione di centri piccoli, centri grandi, ma c'è anche una netta differenza tra le due province. Come possiamo fotografare l'andamento per la provincia di Perugia e per quella di Terni? La differenza credo stia, intanto nel ruolo della città capoluogo, perché in effetti se c'è stato un effetto sul voto negativo per il centro-destra e per la Lega in particolare e relativamente positivo per il centro-sinistra, di tipo urbano si è avuto nella città di Perugia, capoluogo dell'Umbria, città universitaria, città dei servizi più moderni. Ritorniamo a quel tipo di composizione sociale, quindi anche dell'elettorato della città. Insomma, qui Perugia quasi sembrerebbe emergere come la Milano dell'Umbria, sostanzialmente, perché anche in Lombardia la Lega è fortissima dappertutto, ma a Milano no. In Umbria è fortissima dappertutto, ma a Perugia no. Quindi ci può essere anche un effetto di questo tipo, però bisogna andare a studiare un po' meglio, bisogna capire anche che ruolo hanno giocato, anche lì le tante candidature che erano presenti nella città, per esempio per il centro-sinistra, e quindi quanto questo possa aver favorito poi nella battaglia per entrare in consiglio regionale con scambi di voti, anche appunto da partiti diversi, eccetera, questo risultato. Questo è una componente, quindi la città. L'altra componente è il ruolo della lista civica T6, che ha sottratto voti alla Lega, appunto, in particolare, in una parte del territorio, soprattutto della provincia di Perugia, quello a cui accennavo prima, Folignate, Spolettino, Valnerina. E questo è sicuramente l'altro aspetto rilevante, quindi direi che sono sostanzialmente questi i fattori che hanno penalizzato a Perugia, nella provincia di Perugia l'hanno portato al 35%, 5 punti sotto terni. Però mi sembra che sia molto legato, a parte la questione appunto della città capoluogo, che bisogna studiare un po' meglio, legato alle dinamiche delle elezioni regionali con candidati e liste civiche, eccetera. Non ci vedrei una parabola diversa tra Perugia e terni, ci vedo un fatto contingente più che altro. Se posso, vedo che il tempo a nostra disposizione è praticamente terminato, vorrei una risposta brevissima su una cosa che mi ha colpito, detta da lei, gli elettori meno istruiti sono più fedeli e quelli più istruiti cambiano di più. Perché? Ma no, questa è una cosa, siccome quando abbiamo fatto le stime dei flussi elettorali abbiamo utilizzato anche qualche variabile nel modello di stima per migliorare la qualità delle stime, ma insomma abbiamo trovato due cose, solo nelle due città capoluogo però, a Perugia e a Terni. A Terni è stato trovato questo, che gli elettori più istruiti sono meno fedeli al voto alla Lega, nel senso che la fedeltà rispetto alle elezioni regionali precedenti è stata alla Lega, è stata minore a parte sempre da queste nostre stime, poi sono stime statistiche fatte in modo accurato, però danno un'indicazione soltanto. A Perugia invece è l'effetto città-campagna, gli elettori della periferia, delle frazioni, sono stati più fedeli al voto al PD invece, mentre sono gli elettori urbani quelli che sono risultati più mobili sostanzialmente. Brevissimamente, professor Damiani, chiudiamo con un'ultimissima considerazione, forse risposta scontata e le chiedo breve, da politologo il patto civico PD Movimento 5 Stelle si può archiviare come fallito o un esperimento da riproporre? In Umbria parlano di numeri, in Umbria è andato male, ora vediamo se i due protagonisti principali, quindi il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico avranno la possibilità di riproporlo nella regione tanto importante che va al voto nei prossimi settimane che è Emilia Romagna, però diciamo che la prima prova non è andata bene. Bene, grazie a tutti voi per averci seguito, grazie al professor Bruno Bracalente, al professor Damiani dell'Università di Perugia e a voi che ci avete seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.